Lo sfascio della Fiera del Levante è un solo responsabile, la Regione Puglia. Parola del presidente della provincia di Bari, Schittulli, che, carte alla mano, si smarca dalle accuse di mala gestione del sindaco Emiliano e rilancia la palla nella metà campo della Giunta Vendola, l'indiziata principale del buco da 14 milioni di euro accumulati dall'ente negli ultimi otto anni. Schittulli sostiene di aver segnalato sin dall'inizio, un anno fa, presunte ombre nell'operato dei vertici della campionaria. Una gestione a maglie troppo larghe, puntualmente censurata, nelle note di contestazione su affidamenti di appalti e servizi esterni, oltre alla mancata comunicazione al CDA dei bilanci. Di qui la richiesta di un incontro al governatore Vendola e ai soci per fare chiarezza. Il vertice si è tenuto il 23 luglio scorso, ricorda Schittulli, ma Vendola ne ha mistificato i contenuti. Non è vero, denuncia, che tutto è risolto solo con l'indicazione del neopresidente. Patroni griffi, scelta apprezzata da Schittulli, gli errori infatti continuano, come l'ipotesi di svendere i terreni circostanti della fiera nell'ottica della privatizzazione. Quelle aree, sostiene il presidente, vanno trasformate in zona di edilizia residenziale agevolata per giovani coppie o famiglie a basso reddito. Il presidente chiede un percorso condiviso e partecipato sulla futura privatizzazione. Debiti verso fornitori, verso banche, minore attività, minore produzione e quindi per chi ha gestito debbano rimpinguare questo debito e progettare il futuro della fiera. Questo significa parlare chiaro ai cittadini.